A Sport Days in scena anche il grande karate con il maestro Teano Fattorello con oltre 150 atleti sul tatami e 3 ore di intenso spettacolo. Alcuni dei partecipanti sono stati allenati dai maestri Dominico Lombardi, da Dino e Gerardo Cappuccio, dal maestro Alfonso Nangelo e dal maestro Ciotola e da tempo non si vedeva uno spettacolo del genere e le tribune sono state rapite dalla tecnica degli atleti. Tutti i maestri attualmente si allenano con il maestro giapponese Miura Naito Funakoshi. La supervisione dell'evento è stata coordinata dal maestro Domenico Lombardi e dal dottor Rega. Lombardi è anche il coordinatore responsabile dello Shotokan tradizionale Campania, mentre Rega è referente dello stesso ente in regione. Uno dei momenti più belli e significativi è stato quando il maestro Teano Fattorello ha presentato due suoi allievi, un ottantenne e un ragazzino di tre anni a voler lanciare un messaggio sulla vera essenza del karate, senza età e senza continui. E la cosa più bella è sapere che entrambi si allenano allo stesso orario e allo stesso corso.